Ciao mi chiamo Davide Bergamo ho 28 anni ho sempre fatto il muratore da quando ho 18 anni nelle imprese edile di mio padre ho sentito parlare del Beuys tramite Enrico per la prima volta che mi ha coinvolto in questa esperienza ho deciso di partecipare perché dato che come ripeto è stato il mio primo servizio ho voluto provare sta nuova esperienza di fare un calendario nudo sinceramente all'inizio ero un po impacciato imbarazzato come possiamo dire però posso dire che è andata bene non ho mai fatto foto di nudo col mio corpo mi sento in piena armonia diciamo la sinergia con il fotografo è stata posso dire positiva ci siamo subito come dire abbiamo avuto subito un bel feeling e un bravo fotografo per quello che posso dire è stata una bella esperienza bella bella posso dire che sono un po ambizioso e speriamo che sta avventura qua ci porti a un vieto fine invito a tutti i miei amici e mie amiche soprattutto a comprare questo bellissimo calendario perché almeno sfruttiamo un posto corpo e lo facciamo un po notare